Bene amici, questa è Polestar 2, su Tech Drive trovate il Tech Drive, questo è un approfondimento sulla tecnologia, molto bene il radar degli ADAS, là c'è una telecamera, guida autonoma di livello 2, fari LED non Matrix, vi dico subito la ricarica è a 155 kW o a 11 in corrente alternata, molto bella secondo me anche la parte posteriore, completamente a LED, la potenza e la batteria mi piace un sacco, sono dichiarate qua sulla fiancata, 78 kWh, 170 kW, su Tech Drive trovate anche autonomia eccetera eccetera eccetera, qua vi racconto un po' dell'infotainment perché è particolare, lo abbiamo visto su qualche altra vettura, si tratta di Android Automotive ma con una personalizzazione Polestar che lo rende super intuitivo, guardate quando salite a bordo avete questa grande schermata con volendo anche le applicazioni, i preferiti ma la cosa che mi piace di più è che la schermata home relativa alla vettura ha delle scritte grandi, intuitive, non troppi sotto menu dove si può configurare la vettura, per esempio qua è la durezza dello sterzo, possiamo mettere l'SC in modalità sport, bellissimo il settaggio del creep che è quella funzione che quando arrivate a fermarvi non vi ferma fino a zero con la guida one pedal ma arriva a 6-7 km all'ora e poi la macchina continua ad andare oppure quando siete fermi e mollate il pedale del freno la macchina inizia a andare e a muoversi lentamente, potete attivarlo o disattivarlo e anche la frenata rigenerativa quindi la guida one pedal che qua è vera si può anche disattivare oppure abbassare di intensità, poi qua su supporto abbiamo tutti i settaggi dell'infotainment, oltre ad avere il cruise control standard quindi non attivo c'è anche quello adattivo ma c'è anche il travel assist con l'assistente anche sulle corsie, il driver alert che capisce quando siete stanchi e la lettura dei segnali stradali, oltre che ovviamente al sistema anticollisione è comodissimo, avviso pronta a partire, cosa vuol dire? Che se voi siete in coda distratti davanti le macchine partono prima che quello dietro vi suoni per dire oh devi andare avanti la macchina vi avvisa di ripartire, qua per quanto riguarda la ricarica bella la possibilità di cambiare la percentuale massima di ricarica della batteria, vi consiglio di tenerla sempre verso l'80% perché si vanno a usurare meno le batterie e dureranno più nel tempo, e poi anche la corrente di ricarica che può essere settata, magari avete un contatore che non supporta troppo assorbimento potete andare ad abbassarlo, questo si può fare anche dall'applicazione, ma dell'applicazione ve ne parlo dopo, su altro ci sono un sacco di possibilità, dal controllo dello stato della vettura, l'assistenza con la possibilità di selezionare se chiamare il Polestar Connect, quindi il servizio di emergenza, il 112, cosa che si può fare anche da qua sopra, e poi c'è la modalità traino per andare a disattivare tutti gli automatismi, per questo è una vettura che non ha bisogno di chiave perché si può mettere su smartphone sia Android sia su iOS, ma anche se avete la chiave ovviamente Keyless, quando salite e mettete in drive premendo il freno si predispone per partire, non dovete schiacciare nessun pulsante start, stop o altro, oltre alla sottovettura qua c'è la possibilità di personalizzarsi il blocco delle portiere, poi c'è la possibilità di personalizzarsi le luci interne, non tanto nella tonalità che è sempre questo bianchino molto nordico, ma nell'intensità, nelle luci di atmosfera eccetera eccetera eccetera, idem quelle esterne che fanno un bel giochino, quando si accende si spegne e si possono decidere come settarle, e poi gli specchietti, i tergicristalli, insomma, comunque vedete, quando apriamo qualsiasi menu scritte grandi e super super intuitive, qua invece entriamo proprio nel menu di Android Automotive, vi potete loggare con il vostro account, queste sono tutte le applicazioni che in questo momento sono sul portale Android Automotive e si possono scaricare in macchina, la critica è che c'è solamente CarPlay, cablato, non c'è wireless, ma non c'è Android Auto, il che se ci fosse uno store con tutte le applicazioni Android non sarebbe un problema, ma per esempio Waze non c'è, se lo voglio utilizzare TomTom per esempio non c'è, e allora se avete Android dovete tenere qua il telefono così, oltre ad Android Automotive, che tra l'altro non ci sta neanche, insomma, secondo me è una pecca, quando invece saranno tutte queste applicazioni su Android Automotive sarà una cosa diciamo superabile tranquillamente, perché userete l'interfaccia, per esempio Maps è un Maps intelligente fatto per vetture elettriche, oltre a poter usare l'assistente di Google per tutte le richieste, quando fate una pianificazione vi dice che, per esempio qua, abbiamo bisogno di una ricarica, arriviamo con la batteria meno un per cento, quindi tappando questo pulsante automaticamente ci dice qual è la stazione più vicina, dove ha senso carrucare e se è veloce oppure lenta e automaticamente fa una pianificazione intelligente del percorso e come facevo vedere prima, la mappa compare anche lì davanti ai nostri occhi. Questo per quanto riguarda Google Maps, io sono poi andato nel Play Store, ho scaricato un paio di applicazioni, il browser web, che devo dire è fatto veramente molto bene, sì, mi piace questo sito web, andiamo a andreagaleazze.com, è anche veloce la navigazione, quando comprerete una Polestar, tre anni compresi nel prezzo di acquisto di tutti i servizi, ma non solo, abbiamo la possibilità di scaricare ABRP, che è un planner che tiene in considerazione ancora più fattore rispetto a Google e la cosa interessante è che ABRP, scaricato su Android Automotive, automaticamente, vedete, prende il livello di batteria in tempo reale della vostra auto, quindi quando fate la pianificazione tiene in considerazione proprio della batteria reale, quando invece utilizzate su altre vetture, utilizzando sullo smartphone fa una stima dei consumi e dovete dirgli voi il livello di batteria. Qua abbiamo la possibilità di vedere un... che è... allora, alla fine Android e qualche baghettino c'è, vabbè, torniamo indietro, ti ho dato i permessi, vabbè, niente, considera solo se l'app è in uso. Allora, se succede questo, molto semplice, si tiene premuto questo pulsante per 20 secondi e si riavvia il sistema. Ho trovato qualche baghettino anche in Google Maps, un po' di volte mi si è frizzata la posizione. Quando le macchine hanno tanto software, questo può capitare. Però, molto bello questo pulsante, che ci può dire la qualità dell'aria, sia interna, sia esterna, se ci sono dei pollini, l'assistente autonomia che ci dice come stiamo guidando, quanto stiamo consumando in tempo reale, e poi tutte le applicazioni multimediali dalla radio, con ovviamente digital audio broadcasting, ma possiamo andare anche ad ascoltare, se vogliamo, Spotify. E la sonorizzazione di questa auto mi è piaciuta veramente tantissimo. Vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa. Ovviamente a buon tamarro, cerco Gigi, Doug, e faccio partire l'amour toujours. Mamma mia! Suona benissimo, il che, abbinato al fatto che è silenziosissima, sembra veramente una sala da concerti. L'audio è una delle cose che mi è piaciuta di più di questa macchina. E niente, poi qua abbiamo in P delle impostazioni dell'amministratore di sistema, che ovviamente entra col proprio account sia di Google, ma si può creare anche un account sull'applicazione. Ora, io non ho potuto farlo perché ci vogliono due chiavi per configurarlo, però l'applicazione è ben fatta con tra l'altro una sorta di newsletter blog che vi dice per esempio che vedete c'è un nuovo browser web disponibile, quello che vi ho fatto vedere, insomma arrivano anche le news ai proprietari, si può vedere da remoto la localizzazione della macchina, lo stato di carica, aprire e chiudere le portiere, insomma le solite cose che si possono fare dalle applicazioni. oltre però, come dicevo prima, mettergli sopra la chiave elettronica, le telecamere sono a 360 gradi con la possibilità, volendo di andare a zoomare davanti, dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è però la vista tridimensionale che si può andare a settare. settare qua in altro ci sono le notifiche e anche la climatizzazione funziona molto bene con, a portata di mano, sempre visibili, possibilità di scaldare sedili e volanti e qua di entrare nella climatizzazione dove si possono decidere i flussi, se attivare la climatizzazione quando siamo parcheggiati, la purificazione dell'aria, il pre-climatizzazione e poi qua tutte le impostazioni con anche la possibilità di attivare il sensore della qualità dell'aria e lo sbrinamento dell'1.8 automatico. Insomma, una vettura molto, molto tecnologica con un sistema operativo che mi piace tantissimo con, avete visto, qualche piccolo baghettino e senza Android Auto. Quello faccio fatica a perdonaglielo, per il resto tecnologia top. E la cosa che mi è piaciuta è che si vede che è stata ingegnerizzata e studiata da un esperto di user interface perché quando sali trovi le funzioni principali subito a portata di mano. Ciao!